omicidi falcone randazzo chiusa la requisitoria del pubblico ministero chiesti due ergastoli incidente stradale in via san giovanni bosco due donne finiscono all'ospedale santelia caltanissetta ruba una sedia a rotelle denunciato un giovane a gela sequestrate tre discariche abusive e un allevamento di cavalli ben trovati con il nostro telegiornale apriamo con la cronaca giudiziaria omicidi falcone randazzo la procura chiede due ergastoli chiusa la requisitoria del pubblico ministero che ha chiesto alla corte d'assise di caltanissetta la condanna all'ergastolo per il boss di campo franco domenico mimì vaccaro accusato di avere pianificato l'omicidio di gaetano falcone di montedoro e per il milenese carmelo sorce imputato invece per l'omicidio di salvatore randazzo due delitti commoventi diversi alla base su cui fece luce l'inchiesta antimafia dei carabinieri gallo d'oro grazie alle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia gaetano falcone venne ucciso a montedoro il 13 giugno 1998 a colpi d'arma da fuoco secondo quanto ricostruito dalla procura nissena l'omicidio era stato deliberato da mimì vaccaro il quale riteneva falcone un personaggio incontrollabile all'interno di cosa nostra motivi passionali invece quelli alla base dell'omicidio di salvatore randazzo ucciso il 5 novembre del 98 a milena alla base della vicenda secondo quanto ricostruito finora da magistrati investigatori la rivalità tra la vittima e carmelo sorce per l'amore di una ragazza una tesi che era stata ribadita in aula anche da alcuni collaboratori di giustizia si tornerà in aula la prossima settimana per le arringhe degli avvocati difensori antonio impellizzeri danilo tipo e diana meli a calta nissetta incidente stradale in via san giovanni bosco ferite due donne sentiamo i particolari tamponamento fra tre auto con due donne rimaste ferite trasportate in ospedale in ambulanza in via san giovanni bosco l'incidente si è verificato intorno alle 13 di oggi l'allarme è scattato subito ma per i soccorsi e le forze dell'ordine non è stato facile raggiungere rapidamente la via san giovanni bosco trattandosi di una strada stretta e a senso unico in pochi istanti infatti si è creato un serpentone di automobili che provenivano dai due lati di via redentore da via amico valenti e solo dopo parecchi minuti le ambulanze del 118 sono riuscite a farsi largo nel traffico e a raggiungere il luogo dell'incidente le due donne ferite sono state soccorse a una è stata applicata anche un collare protettivo e subito l'ambulanza si è diretta verso l'ospedale santelia seguita poco dopo da un altro equipaggio che a soccorso la seconda donna rimasta ferita entrambe erano coscienti al momento dell'arrivo del 118 le loro condizioni non sembravano gravi sul posto nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri insieme all'equipaggio di una volante della polizia i militari dell'arma hanno identificato i conducenti delle auto ed eseguito i primi rilievi per stabilire con precisione la dinamica dell'incidente singolare furto all'ospedale santelia di calta nissetta dove è stata rubata una sedia a rotelle sentiamo i particolari ha rubato una sedia a rotelle dall'ospedale per non tornare a casa a piedi una vicenda singolare ma che anche costata la denuncia per furto a un giovane nisseno di 24 anni quest'ultimo era stato accompagnato in precedenza all'ospedale santelia per essere medicato in quanto aveva riportato delle ferite mentre era in stato di ubriachezza una volta che gli sono state praticate le cure del caso ha pensato bene di impossessarsi di una delle sedie a rotelle custodite nella stanteria del pronto soccorso utilizzate per il trasporto di pazienti che hanno difficoltà motorie e si è diretto verso la città per raggiungere la propria abitazione dell'accaduto si è accorto una guardia giurata che svolge il servizio d'ordine in ospedale che ha subito allertato le forze dell'ordine immediatamente i poliziotti della questura si sono messi alla ricerca del giovane il quale è stato intercettato poco dopo all'altezza di via leone tredicesimo dall'equipaggio di una volante una volta bloccato il ladro della sedia a rotelle è stato condotto in questura per essere identificato e per gli accertamenti del caso ed è stato proprio lui a raccontare agli investigatori di essersi impossessato della sedia a rotelle per raggiungere la sua abitazione in quanto si trova a grande distanza dall'ospedale ora si passerà alla fase processuale sette volontari della protezione civile del comune di san cataldo manuel bonaffini savio vullo angelo cravotta salvatore lipani gabriele ceraolo cataldo giordano e salvatore giordano hanno partecipato a messina all'esercitazione nazionale sul rischio sismico denominata sisma dello stretto 2022 ad annunciarlo il sindaco di san cataldo gioachino comparato in una nota l'esercitazione che si è svolta nelle province di reggio calabria messina ha avuto la finalità di testare l'attuazione del modello di intervento nazionale per il soccorso sul rischio sismico la simulazione ha previsto lo scenario di un terremoto di magnitudo 6 andiamo a Gela scoperte tre discariche abusive sequestrato anche un allevamento di cavalli il servizio tre discariche abusive sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri nelle campagne intorno a Gela in particolare nella zona di piano mendola e per il proprietario dei terreni è scattata anche la denuncia a piede libero durante il controllo dell'area gli investigatori della stazione dell'arma di Gela insieme ai componenti del centro anticrimine natura forestali di agrigento hanno individuato tre siti in particolare si trattava di aree che hanno attirato l'attenzione degli investigatori dopo un controllo del nucleo elicotteri dei carabinieri di palermo in quanto si trattava di terrapieni dove erano stati abbandonati rifiuti speciali pericolosi una volta che i carabinieri hanno deciso di controllare le zone in questione si sono trovati davanti a materiale di vario genere rifiuti in cemento ammianto altri bituminosi e plastici scarti di lavorazione edilizia apparecchiature elettroniche pedane in legno e rifiuti urbani non differenziati inoltre è stato anche scoperto un capannone adibito all'allevamento di cavalli gli animali sono stati controllati dai militari insieme ai componenti del servizio veterinario del comune di Gela e dagli accertamenti è emerso che i cavalli erano privi dei codici aziendali in totale le tre aree finite al centro dell'indagine coprono una superficie complessiva di oltre 700 metri quadri e come detto sono state tutte sequestrate insieme all'allevamento e rimaniamo a Gela sgomberato un bene confiscato alla criminalità continua l'attività del nucleo di supporto all'agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata istituito presso la prefettura di caltanissetta lo scorso 3 novembre infatti su impulso del prefetto le forze dell'ordine hanno eseguito lo sgombero di un immobile a Gela già confiscato in via definitiva e appartenente ad una nota famiglia della criminalità organizzata locale che continuava ad occuparlo abusivamente l'operazione fa seguito ad altre attività di sgombero portata a termine nel comune gelese nei primi mesi dell'anno da parte della polizia di stato dei carabinieri della guardia di finanza che hanno già eseguito operazioni di sgombero di due immobili confiscate ad esponenti della criminalità attiva in quel territorio nonché di un complesso aziendale riconducibile ai medesimi sempre nel comune di Gela il nuovo risultato conseguito nel territorio gelese dunque rappresenta un ulteriore significativo passo in avanti dello stato nell'incessante azione diretta al contrasto della criminalità organizzata e contribuisce a dare un segnale forte della presenza e dell'impegno delle istituzioni per l'affermazione della legalità in un contesto complesso e articolato come quello di Gela nuove opportunità di alta formazione di inserimento nel mondo del lavoro per i giovani residenti in sicilia o provenienti dalle regioni del mezzogiorno e domiciliati nell'isola e quanto annunciato dalla regione in una nota evidenziando che è stato pubblicato il bando per l'apprendistato per l'alta formazione e la ricerca. L'obiettivo è sostenere un'offerta formativa rivolta a giovani assunti con contratto di lavoro in apprendistato duale di alta formazione e ricerca. Il contributo massimo per ogni singolo apprendista è pari a 6.000 euro. L'avviso ha come destinatari i giovani di età compresa tra i 17 e i 29 anni disoccupati. Al momento niente bonus di Natale, parla l'assessore Andaloro. Non ci sarebbero al momento in programma nuovi bonus economici da erogare in prossimità delle festività natalizie. Il comune nisseno però si riserva a distanziare le misure necessarie qualora dovessero arrivare i fondi, così come spiega l'assessore alle politiche sociali Cettina Andaloro. Un aiuto economico una tantum atteso però da numerose famiglie del territorio, soprattutto in vista dei giorni di festa. Rimangono intanto sempre attivi i servizi di sostegno, come ad esempio il contributo per gli affitti garantiti dalle politiche sociali. Come sostegno che c'è stato sempre, le politiche sociali hanno messo a disposizione, c'è una domandina da fare per chiedere un aiuto economico. Ma quello c'è stato sempre, l'abbiamo sempre fatto. Al momento purtroppo, anzi chiariamo questo aspetto, mi chiedono tutti se ci sarà il bonus che abbiamo dato negli anni precedenti, soprattutto a Pasqua e a Natale negli anni del 2021. Quest'anno non abbiamo avuto nessun finanziamento da parte, sostegno alla povertà da parte del governo centrale. Se arrivano saremmo ben lieti di darli. Le politiche sociali, lì fin dove possono, danno l'aiuto che c'è sempre stato. Aiuto, sostegno al reddito, bonus e spesa, ma sono cose che ci sono sempre state. I precedenti bonus non hanno a che vedere con quello che abbiamo adesso. Gli agenti della Polizia Postale hanno incontrato gli alunni del circolo didattico Leonardo Sciaccia di Caltanissetta nel progetto Cyberbullismo The End, finalizzato alla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e dei pericoli della rete. Il progetto, organizzato dalla rete di scuole nissene che comprende l'Istituto Comprensivo Lombardo Radice, Scuola Capofila, l'Istituto Comprensivo Don Milani, il circolo didattico Leonardo Sciace e l'Istituto Rapisardi da Vinci di Caltanissetta, prevede interventi formativi rivolti agli alunni, studenti, docenti e genitori. Un progetto da 10 milioni di euro per riqualificare l'ex miniera Bosco, il servizio. Un intervento mirato per risanare l'ambiente e restituire valore alla miniera Bosco San Cataldo nel Nisseno. La regione siciliana, attraverso il Dipartimento dell'Energia, ha dato il via libera alla proposta di progetto di finanza da 10 milioni di euro che consentirà di riqualificare il sito minerario dismesso dal 1989. Nella logica dell'economia circolare spinta anche dall'Unione Europea, sottolinea il governatore Renato Schifani, questa iniziativa rappresenta un modello virtuoso di partenariato pubblico-privato che non solo eliminerà fonti inquinanti, ma costituirà un'occasione di sviluppo economico che ha anche un valore simbolico, ancora di più a ridosso della ricorrenza della giornata in memoria delle vittime delle miniere il 12 novembre, istituita dal precedente governo regionale. L'intervento, secondo il progetto di finanza presentato dalla società GMRI-SRL, consentirà di smaltire l'ammasso di salgemma presente nell'area da anni fonte di inquinamento, impiegando il minerale come prodotto contro il gelo nelle strade. Una soluzione che potrà creare anche nuova occupazione. 15-20 unità di personale impiegate direttamente e altri 30 nell'indotto. Tra i benefici economici inoltre è previsto anche un incremento del gettito fiscale, investimenti per oltre 10 milioni di euro a carico del privato e il versamento alla regione del canone di produzione mineraria. Sul fronte ambientale, contemplati la sistemazione idrogeologica dell'area, la realizzazione di un campo fotovoltaico e la piantumazione di essenze erbore resistenti ai terreni salini. Il definitivo progetto di fattibilità sarà quindi posto a base di una gara di evidenza pubblica per l'affidamento della concessione. La società GMRI-SRL in qualità di promotore potrà partecipare con diritto di prelazione così come prevede la normativa. Resa nota la composizione degli organi sociali di Fedefarmac Altanissetta per il triennio 2023-2025 dopo le elezioni delle cariche. Presidente del Consiglio direttivo confermata Mariella Eppolito, Vicepresidente Nicola Gennuso, Segretario Luigi Russo, Tesoriere Marco Granata, Consiglieri Salvatore Campisi, Barbara Iraci Cappuccinello e Giuseppe Santisi. Rinnovati anche il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probbiviri. Caro Bollette, Schifani incontra i rappresentanti delle associazioni. Faremo subito un amoratore Irfis se non ci sottrarremo dal fare la nostra parte. Sono queste le parole del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nell'incontro tenutosi stamattina a Palermo a Palazzo d'Orleans con una delegazione delle associazioni promotrici del corteo contro il caro energia. Sto dalla vostra parte, oltre che come Presidente della Regione, anche come cittadino e gli uffici stanno lavorando al amoratore Irfis. Verrà sospeso il pagamento della quota capitale della rata e scadenza del mese di dicembre dei mutui. All'incontro erano presenti anche il ragioniere generale della Regione Siciliana Ignazio Tozzo, il dirigente generale del Dipartimento delle Attività Produttive Carmelo Frittitta e il direttore generale dell'Irfis Calogero Guagliano. Ho preso atto della manifestazione che è sintomo di un grandissimo malessere, ha aggiunto il Governatore, che ha promesso massima attenzione da parte del Governo regionale. Il Governatore ha poi anticipato alcuni interventi ancora in fase di studio, come un rimborso sugli aumenti percentuali delle tariffe energetiche e l'incentivo al ricorso a impianti di nuova generazione che possono garantire risparmi grazie a sistemi più moderni e innovativi, per puntare, a concluso Schifani, a una maggiore autonomia energetica della Sicilia. I gruppi consigliari del Partito Democratico e le Spighe hanno redatto un regolamento proposto al Consiglio Comunale per l'utilizzo dei beni immobili strumentali di San Cataldo. Si tratta di tutti quei beni, si legge in una nota firmata da Francesca Cammarata, Marco Imero e Mario Lupica, che possono essere utilizzati oltre che per attività istituzionali o comunque promosse dall'ente, anche ad ente e associazioni con sede o che operano nel territorio comunale. Per i beni concessi in uso, il richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato di una tariffa di noleggio giornaliera e al versamento di un deposito cauzionale in base alle tariffe individuate con apposita deliberazione dell'Aggiunta Comunale, che auspichiamo, aggiungono i consiglieri, siano sufficientemente basse da permettere alle realtà sociali di usufruirne. Tutela del patrimonio minerario incontro a Palazzo Moncada. Il prossimo 11 novembre, dalle 9.30 del mattino a Palazzo Moncada, si terrà il convegno tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio minerario e culturale siciliano, evento realizzato con il partenariato della Regione Siciliana, del Comune di Caltanissetta, delle Vie dello Zolfo, dell'Università della Calabria, dell'ISPRA e non solo. Si parlerà della valorizzazione delle miniere della storia, della cultura ad esse collegate, ma anche dell'importanza economica, sociale e scientifica, ambientale e paesaggistica. Un convegno che guarda al turismo scientifico legato alla ricerca e all'archeologia mineraria e alla sostenibilità ambientale. Si tratta di un importante evento che l'abbiamo deciso di fare giorno 11, perché è il giorno precedente alla commemorazione delle vittime del cimitero di Gesso Lungo, della tragedia del 12 novembre, appunto, che si verificò nel 1881. Questo convegno ha un tema molto importante, un titolo molto importante, quello della tutela, della valorizzazione del patrimonio minerario siciliano e per intenderci dalle nostre parti, quando parliamo di patrimonio minerario, parliamo delle zolfare. È un convegno organizzato dal Comune di Caltanissetta insieme all'ISPRA di Roma, a cui parteciperà l'Università di Catania, il dirigente generale dell'assessorato acqua rifiuti e pubblica utilità, che si occupa appunto di cave e miniere. Poi sarà presente anche il presidente dell'Associazione Italiana e l'Associazione Nazionale Ingegneri Minerari. Insomma, un momento importante per fare il punto della situazione è poter iniziare quel progetto che da alcuni mesi sta andando avanti nel Comune di Caltanissetta e nei comuni circostanti, che è quello della costituzione delle vie dello zolfo. Le aree minerarie recuperate e valorizzate diventerebbero quindi dei veri e propri musei dei luoghi, un convegno che tratterà la tematica da diversi punti di vista con l'alternarsi degli interventi di più relatori, tra cui la coordinatrice delle rete dei musei dei parchi minerari e reni Ispra, la dottoressa Agata Patanè e il dottore Andrea Stellato dell'Università della Calabria e il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra. Ci sarà poi un momento dedicato alle vie dello zolfo, cioè un protocollo per la valorizzazione del territorio del centro Sicilia. Si parlerà anche di economia circolare e della valorizzazione delle miniere siciliane insieme all'ingegnere Antonio Martini, direttore generale del Dipartimento dell'Energia, l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi Pubblici della Regione Siciliana e dei programmi regionali per la valorizzazione del patrimonio dismesso, insieme all'ingegnere Domenico Savoca, presidente dell'Associazione Nazionale Ingegneri Minerari. Nell'ambito del Progetto Nazionale di Educazione alla Legalità Ambientale, un albero per il futuro e albero falcone, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e fortemente voluto dalla Fondazione Falcone e dall'Arma dei Carabinieri, i militari dell'Arma del Reparto Biodiversità di Reggio Calabria e del Reparto Territoriale di Gela hanno consegnato le talee dell'albero falcone all'Istituto Leonardo da Vinci di Niscemi. La cerimonia si è tenuta a margine del convegno dal titolo Giovanni Falcone, il pensiero e l'opera. Il progetto prevede la donazione e messa a dimora delle scuole italiane di circa 5.000 piantine nel triennio 2020-2022. A tutt'oggi sono circa 900 gli istituti che hanno aderito. Il restauro ligno del Museo Diocesano. Sentiamo i particolari. Ha riportato alla luce dei dettagli nuovi e inaspettati il restauro del reliquiario ligno, il cui risultato finale è stato presentato nel corso di un incontro nel Museo Diocesano Nisseno, svoltosi nel weekend, nella sala conferenze dedicato alla memoria di Francesca Fiandaca. Un'opera nell'opera, nascosta sotto strati di colore, così come spiega lo stesso autore del restauro, Vincenzo Musumeci. In tutto mi potevo immaginare, ma certamente non di scoprire queste pitture, che poi sono straordinarie per lo stato di conservazione. Il restauro è stato effettuato grazie al sostegno del Rotary Club Nisseno. Quest'anno, presentando un restauro sempre col contributo del Rotary, si era prospettata l'idea di lavorare anche su un altro restauro. Qui al Museo Diocesano, esattamente nella cappella maggiore del seminario, avevamo questo reliquiario. Un reliquiario che sembrava sì interessante, ma non così interessante come lo vediamo ora. Infatti questo restauro poi ha lasciato tutti un po' sorpresi, perché abbiamo trovato delle pitture sotto, abbiamo trovato dell'argento, abbiamo trovato veramente un bellissimo oggetto e quindi per noi è oggi veramente un motivo di soddisfazione. Siamo veramente felici che quest'opera arricchisce la collezione permanente del Museo Diocesano. Il restauro è stato abbastanza lungo e complicato e sono venute fuori anche delle cose estremamente, ordinarie delle reliquie, addirittura una pietra del Santo Sepolcro, insomma, quindi per noi è un motivo di grandissimo orgoglio aver fatto quest'opera importante per tutta la città. Nelle nostre vietazioni rientra anche quello della diffusione della cultura, quindi quale migliore occasione di questa. Siamo ben contenti appunto di averla fatta, a maggior ragione appunto per come è venuta fuori. L'oggetto restaurato dunque torna a raccontare una nuova storia grazie a tutti quegli elementi riemersi e che prima non potevano essere visti, ammirati e analizzati. Si mantiene viva la nostra memoria e si restituiscono degli oggetti che purtroppo l'incuria, il degrado rischia di cancellare definitivamente. E poi perché il restauro è quello strumento che ci consente di conoscere la nostra storia ma anche di poter impegnare le nostre professionalità, perché ci sono tantissimi giovani la cui abilità manuale e le conoscenze intellettuali devono essere opportunamente utilizzate appunto nel campo del restauro che non è soltanto il restauro pittorico o architettonico ma il restauro come vedete si può esplicare in tantissimi settori, anche in quello come abbiamo visto oggi, di oggetti, questo è un reguario in ligno e quindi è stato un restauro sia della parte linea che della parte pittorica. Siciliacque comunica che a partire dalle 7 del 9 novembre 2022 sarà interrotto l'esercizio dell'acquedotto Blufi per eseguire alcuni interventi di manutenzione lungo l'adduttore principale e quanto si legge in una nota diffusa da Caltacqua che fa sapere nelle zone balneari del comune di Butera la distribuzione sarà interrotta dal 9 novembre all'11 novembre, nei comuni di Riesi e Mazzarino la distribuzione sarà sospesa giorno 10 novembre per effettuare l'accumulo ai serbatoi, la ripresa e le turnazioni saranno tempestivamente comunicate. Andiamo a vedere il punto sulla stagione teatrale del Margherita. Vuole esplorare e svelare le relazioni umane la stagione teatrale 2022-2023 del teatro Regina Margherita di Caltanissetta che apre il sipario da questo mese con un'offerta che va da Shakespeare a Goldoni ma anche Bercov e Grasso. Dai classici in chiave moderna al teatro contemporaneo senza escludere nella proposta la comicità raffinata inoltre storie di riscatto femminile e pensa anche ai più giovani. Il 28 novembre parte la stagione del teatro Regina Margherita di Caltanissetta con un hamlet di Shakespeare interpretato da Mariangela D'Abraccio e Giorgio Pasotti. È il primo di una serie di nove spettacoli che sono stati scelti guardando quelle che sono le produzioni più interessanti e più particolari nella nostra nazione. Infatti avremo anche uno spettacolo nel mese di febbraio che in questi giorni ha debuttato al piccolo di Milano. La stagione si concluderà il 5 maggio con uno spettacolo che racconta la storia di alcune donne dell'entroterra siciliano e appunto questo spettacolo in questi giorni sta debuttando al festival delle colline torinesi. Abbiamo pensato anche ad una mini rassegna per i bambini e le bambine costituita da quattro spettacoli che avranno due repliche, una pomeridiana per consentire alle famiglie di andare tutti insieme a teatro e poi un matinè riservato alle scuole. Questa scelta naturalmente è legata al riconoscimento del valore formativo assoluto del teatro. Tra le agevolazioni previste per chi effettuerà gli abbonamenti anche lo sconto del 50 per cento per gli studenti e le famiglie. E passiamo allo sport karate, quindicesima medaglia d'oro per Maria Russica a Firenze. La nissena Maria Russica, maestra di karate, guadagna la sua quindicesima medaglia d'oro in una competizione internazionale. Dopo l'esperienza di quest'estate in Florida arriva un'altra soddisfazione per lei all'European Karate Championships della World Union of Karate Two Federation, giunto alla dodicesima edizione. Sale sul podio infatti due volte, primo posto nella categoria master nel Catà e terzo nel Kumite. Costantemente si lavora con impegno per poter mantenere sempre il livello tecnico alto e quindi avere delle migliori prestazioni per raggiungere un ottimo risultato. Dopo la Florida che ho ottenuto il bronzo per il campionato europeo ovviamente ho ottenuto ancora un miglior risultato ottenendo il primo posto nel Catà e il terzo posto nei combattimenti. Con questo mi ritengo abbastanza soddisfatta e da questo punto di vista ancora non mollo per continuare a lavorare e mantenersi per i prossimi eventi che si terranno. Bisogna tenersi sempre in allenamento. Il prossimo obiettivo è il prossimo anno in luglio e i mondiali che si terranno in Scozia. Ottimo piazzamento anche per la giovane Sara Bunone che arriva al secondo posto nel Kumite per la categoria cadetti mentre sfiora la finale nel Catà. Sono davvero soddisfatta e dopo un duro lavoro sono riuscita ad ottenere quello che era il risultato sperato, ovvero il secondo posto nella mia categoria nella specialità del Kumite. Come mai ti sei avvicinata a questa disciplina del carattere? Cosa ti piace? Grazie a mia zia che mi ha spinto fin da piccola ad appassionarmi a questa disciplina ormai poco diffusa diciamo tra i ragazzi però grazie a lei sono riuscita ad appassionarmi e con dedizione a dedicarmi a quest'arte. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Cosa ti aspetti dal futuro? Spero di riuscire a seguire le orme di mia zia nonché la mia maestra e vedremo i risultati che riuscirò a ottenere nel prossimo campionato in Scozia. A Firenze dal 3 al 6 novembre, giorni in cui si è svolta la manifestazione sportiva, erano presenti anche altri atleti guidati e preparati dal maestro Michele Nicosia che sono arrivati in semifinale e cioè Michele Calabrese e Michele Amico, rispettivamente nelle categorie junior e cadetti. L'emozione è sempre la stessa anche se riusciamo a controllarla perché la gara che è stata fatta a Firenze era diciamo molto impegnativa sia per il numero dei partecipanti e anche per il livello alto che chiaramente perché ognuno che partecipa al campionato ha un solo scopo presentarsi e vincere, perciò erano tutti agguerriti e abbastanza impegnativa. Le soddisfazioni sono quelle che noi riusciamo a realizzare ogni volta qualcosa, qualcosa perché anche se è una medaglia d'oro è sempre una piccola parte di una continua crescita, perciò siamo sempre pronti ad allenarci e cercare di migliorare sempre il nostro livello tecnico. Sono delle belle soddisfazioni ma c'è tanto tanto lavoro dietro. Bene per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi, ora vi lascio al Meteo e alle notizie di pubblica utilità. Appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà questo sistema nuvoloso atlantico avvicinarsi alle nostre regioni settentrionali. Correnti umidi occidentali riportano quindi un po' di nuvole e anche delle piogge. Controviamo intanto la nuvolosità prevista sull'Italia con appunto questi annuvolamenti che piano piano raggiungono le nostre regioni. Il nord è il versante tirrenico, al momento però nuvolosità non particolarmente compatta, solo a fine giornata arriverà la parte un pochino più consistente di questa perturbazione. E quindi anche come precipitazioni inizialmente poco da segnalare, qualche goccia di pioggia in Liguria e in parte anche in Lombardia, però il grosso delle precipitazioni, comunque non intense, arriverà a fine giornata. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì che vedrà sia un aumento della nuvolosità al nord specie sulle regioni di nord-ovest. Ecco arrivare le prime piogge in Liguria, a fine giornata anche qualche temporale e poi ripeto tra tardo e pomeriggio e sera pioggia anche su Val d'Aosta, Piemonte Orientale e Lombardia. Nell'est Italia il tempo tiene, sì un po' di nuvole in Toscana, a nord-est in Sardegna, ma situazione tranquilla e con temperature diurne che al sud tornano a guadagnare qualche grado sulle isole maggiori. In alcune zone ci avvicineremo nuovamente ai 24-25. Per sapere nel dettaglio comunque come andranno le cose proprio da voi, consultate l'app gratuita di Trevi Meteo.